Probabilmente mi permetto di presentarlo prima di tutto come un amico personale, un amico della Chiesa di Roma, un missionario comboniano e lo voglio presentare con le parole del suo fondatore San Comboni, che lui diceva, una frase che mi ha sempre tanto colpito, non basta più conoscere o sapere, bisogna esserci. Lui diceva questo, no? Ecco, padre Giulio conosce e sa tante cose, ma soprattutto c'è in tante situazioni. Penso che ha girato tre volte tutte le diocese italiane, senz'altro, i seminari, i collegi, il popolo di Dio, e insomma ha fondato, come tutti sappiamo, penso la Misna, collabora con tantissime testate giornalistiche, editorialista, se non sbaglio, di Avvenire, dell'Osservatore Romano, collabora con il giornale Radio Rai, insomma tante cose. Se non sbaglio, ho insegnato anche il giornalismo missionario alla Gregoriana per abbastanza tempo, anche, mi ricordo che il corso era il giornalismo alternativo, quindi è già il titolo che si colpisce, no? E soprattutto la tua esperienza del mondo africano, del sud del mondo, un'esperienza veramente vissuta, vissuta proprio nel tuo stare lì, nel tuo formarti anche appunto nel così importante, diciamo, continente africano. Ecco, ti lascio subito la parola, ti ringrazio a nome di tutti e ricordo tutti la tua relazione a questo titolo, Sussistenza, crescita e sicurezza, perché il debito dei paesi poveri condiziona la nostra vita, punto di domanda. Ripartiamo appunto dal concetto un po' del debito e grazie di cuore per essere con noi. Grazie, grazie davvero. Ringrazio il professor Luigino Bruni per quello che ci ha detto, lo ringrazio anche per quello che scrive su Avvenire e per l'impegno profuso in questa economia davvero di comunione. Non fosse altro perché quando lei parlava mi veniva in mente quello che diceva, scriveva il grande Leopold Sedar Senghor, il grande maestro della negritude, riguardo alle relazioni tra nord e sud del mondo, tra le ex potenze coloniali e i paesi africani, diceva, il passato ci ha trovato drammaticamente distanti. Ma dobbiamo mettercela tutta oggi, oggi ma proiettati anche sul futuro, dobbiamo mettercela tutta per incontrarci all'appuntamento del dare e del ricevere e questo fondamentalmente per un motivo, perché abbiamo un destino comune. E credo che questo sia anche il messaggio che Papa Francesco davvero nel suo illuminato magistero ci ha rivolto attraverso questa enciclica a Fratelli Tutti. Sul tema del debito Papa Francesco è stato molto molto esplicito anche in questa ultima enciclica, ma ricordiamo anche quello che ha detto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, condonare il debito dei paesi poveri, chiudere i paradisi fiscali, prevenire l'evasione e il riciclaggio. E sì, perché bisogna passare davvero dalle parole, dalle buone intenzioni ai fatti, all'azione pratica di fede, anche perché noi viviamo in un mondo segnato da una costante, crescente divaricazione tra gli estremi, una ricchezza che è sempre più concentrata nelle mani di un manipolo di nababbi e le masse impoverite. Questa è la fotografia dell'ultimo rapporto di Oxfam, quello del 2020. Nel 2021 so che il summit di Davos si svolgerà, se non vado errato, a Singapore, intorno ad aprile-maggio, quindi credo che quello del 2021 quest'anno ce l'avremo un po' in ritardo. Oxfam comunque è sempre puntuale nello stigmatizzare l'ingiustizia e qui si tratta di capire che in effetti la situazione sta degenerando di anno in anno. Solo negli Stati Uniti, dal 18 marzo al 15 settembre del 2020, la ricchezza di 643 persone è cresciuta complessivamente di 845 miliardi di dollari. Contemporaneamente 50 milioni di lavoratori perdevano il lavoro, 14 milioni sono ancora disoccupati e ottenevano sussidi dal governo negli States. Consideriamo che oggi meno dell'1% della popolazione mondiale ha una ricchezza superiore al restante 99%. Per usare il linguaggio dell'Antico Testamento, questa situazione davvero grida vendetta al cospetto. Poi noi si ricordiamo nel fatto che il Signore scrive dritto sulle righe storte, dice l'Apostolo Paolo, tutto copre al bene di coloro che amano Dio. Ma è evidente che questa economia uccide. Ha ragione Papa Francesco ad esprimersi in questi termini. Vi basti pensare che lo scorso anno, all'inizio della pandemia del coronavirus, le agenzie di rating Standard & Poor's, Moody & Fitch, queste agenzie di rating nel silenzio più assoluto della stampa internazionale, hanno declassato le economie dei mercati emergenti, molti dei quali naturalmente africani. Si tratta di un fenomeno con un impatto fortemente speculativo, sia per quanto concerne l'aumento del costo dei prestiti, come anche il riferimento all'indebolimento dell'offerta di capitale da parte degli investitori stranieri. Il risultato qual è stato? Che le dieci migliori economie africane si sono trovate in una situazione davvero davvero drammatica, perché questi downgrade stanno sortendo un effetto negativo che acquisce a dismisura non solo l'esclusione sociale, ma penalizza fortemente quelle che potrebbero essere le possibilità di sviluppo. Perché? Perché riducono il valore delle obbligazioni sovrane come garanzia nelle operazioni di finanziamento delle banche centrali e spingono i tassi di interesse in alto. Essendo i valori delle obbligazioni sovrane fortemente scontati, aumentano allo stesso tempo i costi delle rate di rimborso degli interessi, contribuendo in definitiva ad un aumento del costo del debito. Alla prova dei fatti, i titoli obbligazionari di queste nazioni sono considerati carta straccia. Voi potete immaginare questo che cosa significhi oggi per un continente come l'Africa, che sta patendo dopo 25 anni di graduale crescita del PIL a livello continentale. Quest'anno, nel 2020, l'Africa è entrata per la prima volta in recessione. È vero che il valore assoluto del prodotto interno nord del continente africano non può essere confrontato, paragonato per esempio con quello europeo, però c'era sempre stata una graduale crescita. Adesso si è innescata la recensione. Credo che sia importante tentare di fare una comparazione. Il prodotto interno lordo dell'Africa è di circa due trilioni e mezzo di dollari. Voi pensate che il PIL italiano è di poco inferiore ai due trilioni di dollari, ma ancora pensate che un paese come la Repubblica Centroafricana, che in questo momento è ancora una volta in preda a una sanguinosa guerra civile, ci sono state le elezioni, ma purtroppo i ribelli si sono sollevati e hanno circondato la capitale Bangui, quindi non sappiamo come andranno a finire le cose. Bene, il Centroafrica ha una superficie più o meno quella della Francia, una popolazione di 5 milioni e mezzo di abitanti. È un paese dove ci sono commodity, materie prime a dismisura, nei depositi alluvionali, diamanti a non finire, ci sono riserve, giacimenti di petrolio a Biago, al confine con il Sudan, a Bokuma c'è il grande giacimento di uranio e poi c'è una quantità smisurata di legname. Voglio dire, è un paese in cui, se effettivamente vi fosse giustizia, gli abitanti del Centroafrica sarebbero sicuramente più ricchi di quelli del Cantonticino e non è così, perché il prodotto interno lordo oggi del Centroafrica è di 5 miliardi di dollari, una cifra ingiustificabile che dimostra in effetti un'azione predatoria. Io credo che qui dobbiamo avere l'unità intellettuale, come dire, di guardare, interpretare quelli che sono oggi i segni dei tempi e in una prospettiva economica in riferimento alla vexata questio del debito. In fondo questo è il metodo del Concilio Vaticano II che Papa Francesco ha richiamato come fondamentale, e sì perché la sfida per ognuno di noi consiste proprio in questo, nel coniugare spirito e vita. Quindi da una parte c'è la parola forte di Dio, ci sono i sacramenti, la grazia santificante, c'è la vita comune e dall'altra però c'è l'agora, c'è la piazza, c'è il mondo. E purtroppo oggi quello che sta avvenendo è una sorta di cortocircuito per cui c'è una frattura tra la fede, quello che noi celebriamo nei sacramenti e quello che poi si sta manifestando nel nostro povero mondo. Noi viviamo davvero, parafrasando la vecchia pellicola di Stanley Kramer, davvero in un pazzo, 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 pazzo mondo in cui, come scriveva il grande Paolo VI, a vertici di progresso inauditi si associano abissi di solitudine e disperazione inennarrabili. E forse mai come oggi ci viene chiesto, come dire, di uscire fuori le mura. Innanzitutto di capire e comprendere quello che effettivamente sta avvenendo nel nostro povero mondo. Allora il tema di fondo è questo, che le periferie del mondo non sono povere ma semmai sono impoverite. E questo che cosa significa? Significa che in effetti oggi c'è un sistema economico finanziario che non fa altro che accrescere il divario. Provo a spiegarmi meglio. Innanzitutto c'è una svalutazione di quello che è il prezzo delle commodity, delle materie prime. Una svendita che è cresciuta a dismisura proprio a seguito delle speculazioni finanziarie che ci sono state durante la pandemia. In Angola siamo arrivati al colmo. Se uno voleva vendere a maggio, tra aprile e maggio, un barile di petrolio doveva pagare e dare i soldi all'acquirente. C'è qualcosa che non funziona, è evidente. Non solo. È cresciuta a dismisura il debito in Africa. Ora, a differenza di quello che succede a casa nostra, in Africa il debito è ancora più basso, è ancora oggi basso, inferiore al prodotto interno lordo. Però dobbiamo stare attenti, perché mentre nel nostro caso è evidente che il debito è superiore al prodotto interno lordo, le cifre, il valore assoluto è radicalmente diverso. Perché? Perché il prodotto interno lordo è che grazie ad una serie di iniziative, in particolare io penso al grande giubileo del 2000, quando Giovanni Paolo II chiese la cancellazione o la riduzione del debito, bisogna riconoscere che proprio in quel frangente furono messe in cantiere una serie di iniziative da parte delle istituzioni internazionali. Penso al progetto Highly In-Debt Poor Countries, HIPC, ad opera del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, ma penso anche alla cosiddetta Multilateral Debt Relief Initiative. Sono stati i progetti che hanno determinato in alcuni casi la cancellazione e in altri una sostanziale riduzione del debito per i paesi poveri. Quindi possiamo dire che poco meno di vent'anni fa la situazione del debito in Africa, penso all'Africa, ma penso ai paesi di sviluppo, in via di sviluppo in termini generali, sembrava che si fosse risolta. Invece questi paesi poi sono tornati ad indebitarsi. E per quale motivo? E perché naturalmente loro, una volta che la situazione era migliorata in casa, hanno cominciato a chiedere, sono tornati a chiedere prestiti. E questi prestiti sono stati erogati. Il problema di fondo è che, nonostante questi investimenti, spesso le classi dirigenti locali non sono state all'altezza del loro mandato, ma il tema di fondo è che questo debito è stato in particolare in questi ultimi anni finanziarizzato. In altre parole, che cosa è successo? Che il pagamento degli interessi oggi è legato alle speculazioni di borsa. Quindi si è innescato un meccanismo davvero vessatorio, per cui è dimostrato matematicamente che questi paesi non saranno più in grado di restituire i soldi che hanno ricevuto nel corso degli ultimi vent'anni. Ripeto, non dobbiamo essere manichei. Le responsabilità in questo caso sono condivise. Ci sono responsabilità anche da parte dei politici africani, ma è anche vero che il sistema economico-finanziario, così com'è, ha una vocazione così speculativa, per cui la dignità della persona umana creata a immagine e somiglianza ai Dio spesso viene misconosciuta, calpestata. Ora il tema qual è? È che questo debito sta crescendo, sta crescendo a dismisura e in questa maniera si è innescato un vero e proprio processo di neocolonialismo davvero di conquista, perché chiaramente la ricetta che viene da parte delle istituzioni internazionali richiama un po' i piani di aggiustamento strutturale che andavano di moda prima del 2000. Cioè in sostanza bisogna operare tagli alla spesa pubblica, in particolare nel settore della salute e nel settore della pubblica istruzione. Non solo, si stanno raccomandando vivamente le privatizzazioni in Africa, nel sud del mondo, il che significa sostanzialmente una svendita, sì perché il termine privatizzazione a quelle latitudini equivale alla svendita, alla svendita delle commodity, alla svendita di quelle che sono le ricchezze naturali, quindi questo acuita dismisura, per esempio il fenomeno dell'undgraving, col risultato che se andiamo avanti di questo passo, io parlo spesso dell'Africa perché è la realtà continentale, come dire, che conosco meglio, tra qualche anno gli africani non saranno più padroni dell'aria che respirano, del pane che mangiano e dell'acqua che bevono. Ora è evidente che qui si tratta di cambiare le regole del gioco e indubbiamente è necessaria una riforma dal punto di vista sistemico e sì perché qui sicuramente il professor Luigi Bruni è molto più preparato di me per illustrare quello che sto per dire. Come dire, oggi il vero problema è che l'economia finanziaria ha preso il sopravvento sull'economia reale. Se uno legge i dati che vengono pubblicati dalla banca per l'international settlement di Basilea, questo è palese, la ricchezza e il profitto che viene generato in quattro giorni di attività borsistica a livello planetario equivale alla ricchezza che viene prodotta, al profitto che viene, al denaro che viene prodotto in un anno di economia reale. Oggi c'è davvero una divaricazione. Io sono il primo a dire che l'economia finanziaria non va, come dire, punita a priori. Nel senso che il fondo era nata in funzione dell'economia reale. Il problema di fondo è che oggi l'economia finanziaria, detta le regole del gioco, è al punto tale che penalizza l'economia reale e la penalizza anche nelle periferie del mondo, nel sud del mondo. Ecco che allora si pone la vexata a questio davvero di una riforma. politica. Ora devo dirvi che ci sono diverse iniziative in cantiere e io vorrei citarne una che mi sta molto molto a cuore, che è quella che stanno portando avanti un gruppo di giuristi ed economisti, i quali appartengono al cosiddetto cartello della Carta di Sant'Agata dei Goti, una dichiarazione su usura e debito internazionale che risale al 29 settembre del 1997. Su cosa si fonda questa carta? Questa carta fa riferimento ai principi del diritto romano e del diritto canonico, direi praticamente della tradizione della Chiesa fino a Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Ricordiamo che Sant'Alfonso fu proprio vescovo di Sant'Agata dei Goti. Ricordi principi 12 costituiscono una declinazione di quello che è il patrimonio di saperi del diritto romano e del diritto canonico. Questi principi se fossero rispettati sicuramente si potrebbero cambiare le regole del gioco, perché a pensarci bene essi sono già stati recepiti nel diritto internazionale e nel compendio generale dei cosiddetti diritti umani e questi principi sono la buona fede oggettiva nella formazione, per esempio il divieto in colpa incontraendo, la causalità dei contratti e ancora per esempio il divieto di accordi usurai, la diligenza del debitori, il rebuk stantibus, cioè l'eccessiva onerosità sopravvenuta, il cosiddetto favor debitoris, il divieto di abuso di diritto e via discorrendo, non sto a elencarveli tutti quanti. Ora la cosa interessante è che questi giuristi, grazie anche all'aiuto e al sostegno di un gruppo di economisti, hanno lavorato sulla stesura con il placet, la benedizione del Papa Francesco del Segretario di Stato, il Cardinale Parolin e del Cardinal Tarkson, hanno lavorato su una bozza di risoluzione che si spera, grazie anche al coinvolgimento del nostro governo, venga presentata all'Assemblea Generale dell'ONU. Questa risoluzione contiene una richiesta di parere rivolta alla Corte di Giustizia dell'AIA. Qualcuno di voi potrebbe domandarsi, se non mi vedete è solo perché sto ricevendo una telefonata, qualcuno di voi potrebbe domandarsi, ma perché bisogna chiedere, fare un quesito alla Corte di Giustizia dell'AIA passando attraverso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite? Perché questo è l'iter, la Corte di Giustizia dell'AIA può esprimere un parere solo se c'è una richiesta da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Bene, la risoluzione contiene una richiesta di parere alla Corte di Giustizia dell'AIA su un quesito che è fondamentale. Oggi l'architettura dell'economia finanziaria, con particolare riferimento allo shadow banking, cioè il sistema bancario ombra, per intenderci quel sistema bancario su cui circolano allegramenti i famosi derivati OTC, over the counter, quelli che hanno innescato la crisi finanziaria del 2008-2009, non solo, la finanziarizzazione del debito. Tutto questo avviene oggi nel rispetto... Giulio, ripeti il concetto che non ci hai sentito bene. Il sistema bancario è fondamentalmente questo. Lo shadow banking, il sistema bancario ombra e soprattutto la finanziarizzazione dell'economia. Tutto questo impianto è conforme ai principi del diritto internazionale e dei diritti umani? E noi sappiamo già quale sarà la risposta. Non potranno che darci ragione. E qualcuno potrebbe qui obiettare subito dicendo va bene, ma se la Corte di Giustizia si esprime in questi termini questo sarà solo un parere. E attenzione, rappresenterà un precedente nella giurisprudenza internazionale. Per quale motivo? Perché nel momento in cui un paese, e potrebbe essere anche l'Italia, amici miei, perché non dimentichiamo che oggi il problema del debito non riguarda solo le periferie, ma è trasversale. Oggi ci sono tanti paesi industrializzati in sofferenza e l'Italia è tra questi. Bene, nel momento in cui un paese si trovasse la troica in casa, appellandosi a questo parere alla Corte di Giustizia dell'AIA, potrebbe rifiutarsi di pagare il debito. Ora è evidente, Papa Francesco lo dice nella Fratelli Tutti, che i debiti vanno saldati. Sì, ma nella misura in cui viene rispettato il principio di giustizia, di equità. Il problema di fondo è che oggi la logica speculativa è tale per cui non solo si acquisce a dismisura la divaricazione tra ricchi e poveri. Ma come dire, c'è tanta tanta umanità dolente che viene sacrificata sull'altare dell'egoismo umano. Io credo che da questo punto di vista nessuno di noi può dire io non centro. C'è proprio una responsabilità che io credo noi come Chiesa abbiamo nel dare voce a chi non ha voce. Io mi fermo qui, forse sono stato eccessivamente lungo e chiedoveni. No, no, anzi, anzi, ti ringraziamo molto. Certo, all'inizio mentre ti ascoltavo ero un po' pessimista di come si può uscire fuori da questo problema. Adesso alla fine ci hai fatto capire che siamo veramente, per usare l'espressione di Papa Francesco, tutti su una stessa barca e anche tutti su una stessa barca nel problema del debito, perché un debito finanziarizzato, un sistema bancario ombra, un debito trasversale ci riguarda tutti quanti. Io penso che questo appello al diritto è una svolta epocale, è una svolta epocale e veramente il debitore si potrà appellare per avere un'equità anche giuridica. Esatto, perché questo è il problema. Noi dobbiamo affermare la forza del diritto e qui i politici non possono stare alla finestra a guardare, il legislatore, perché qui c'è una res pubblica, un bene comune dei popoli nel perimetro del mondo villaggio globale e quindi questo è fondamentale. Oggi noi stiamo assistendo a uno strapotere dell'economia e questo non significa, come dire, essere terzomondisti. Qui non dobbiamo buttare il bambino con l'acqua sporca. Sappiamo che l'economia è importante, gli investimenti determinano progresso, sviluppo, ma dobbiamo metterci in testa che nel mondo villaggio globale i problemi sono condivisi e quindi, come dire, se noi in una maniera o nell'altra non facciamo altro che relegare le periferie in una condizione di sudditanza, è evidente che poi si inescono gli effetti collaterali. Io penso per esempio alla mobilità umana e ai cosiddetti migranti economici. Non ci deve stupire. Qualcuno dice che dobbiamo aiutarli a casa loro e io sono qui come missionario a dire che stiamo facendo l'esatto contrario, perché questo sistema economico è tale per cui ci sarà una crescita esponenziale a dismisura di quelli che noi definiamo migranti economici. A parte il fatto, qui lo dico con molta chiarezza, questa distinzione di Künz, di questo sociologo tedesco di origine ungherese, che poi risale alla guerra fredda, fu lui a distinguere i rifugiati dai migranti economici. Ma ricordiamo che quando fece questa distinzione c'era ancora la guerra fredda, quindi c'era il primo, il secondo e il terzo mondo. Oggi le cose sono cambiate. Oggi noi diciamo dobbiamo accogliere i rifugiati, ma non dobbiamo accogliere i migranti economici e non ci rendiamo conto che c'è gente che vive nelle baraccoppoli, una moltitudine, e se si continuano a procrastinare nel tempo queste sperequazioni è inevitabile che poi ci sarà per induzione un effetto negativo anche nei paesi del nord del mondo. È per questo che bisogna avere una visione illuminata, proprio come dice Papa Francesco. Bisogna capire che siamo tutti fratelli. Questa fratellanza universale ci deve portare a capire, e qui ribadisco il concetto di partenza, quello di Saint-Gor, che abbiamo un destino comune. Grazie Padre Giulio, ti riporto solo un paio di domande, ti chiedo di rispondere rapidamente, perché il tempo stringe. Purtroppo chiedo scusa a chi sta scrivendo tante domande, ma appunto non abbiamo tanto tempo, però queste possono riassumere. Ecco, dove si può trovare del materiale che illustra questa iniziativa della carta verso la corte dell'Aia? Prima domanda, e seconda i media come hanno risposto? I media ne hanno parlato di questo? Bisogna spingere perché ne parlino di più? Questa iniziativa è già stata presentata a suo avvenire, sull'osservatore romano, quindi se fate una ricerca con Google, mettendo queste parole chiave, carta di Sant'Agata dei Goti, vi viene fuori un mare magnum di materiali, ma se scrivete carta di Sant'Agata dei Goti più osservatore romano o più avvenire, trovate la risposta. Di materiali ce ne sono davvero a bizzeffe. Se mettete semplicemente la presentazione, ripeto un attimo, se scrivete su Google carta di Sant'Agata dei Goti, tra virgolette, e aggiungete Coppola, vi viene fuori la relazione aggiornata che ha fatto il professor Raffaele Coppola, che tra l'altro è avvocato di Papa Francesco della Santa Sede. Lui è il segretario di questo gruppo di giuristi economisti e lui ultimamente proprio ha aggiornato la sua pagina spiegando non solo questa iniziativa, tutto l'excursus storico a partire dal 97, ma fa un update su quelli che sono gli sviluppi di questa iniziativa. Io posso dirvi che personalmente con il professor Coppola, con il professor Poccare, il professor Cannizzaro, sono stato coinvolto nella scrittura del testo e l'abbiamo redatto presso il Ministero degli Affari Esteri, sotto i buoni aspici della segretaria generale, l'ambasciatrice Elisabetta Belloni. La bozza di risoluzione è pronta, ora bisogna vedere quando il governo italiano la presenterà. Sappiamo che c'è grande interesse da parte di molti governi su questa iniziativa, addirittura da parte dei BRICS, il nuovo cartello dei paesi emergenti, che sono Brasile, Russia, Cina, India e Sudafrica.